Riflettori puntati sull'atteso turno di domani dell'eccellenza con la sicula Leoncio di Mr. Sebi Catania impegnato a ricevere all'Angelino Nobile il Modica, con l'obiettivo del successo a tutti i costi in modo da rientrare nel giro di vertice attualmente presidiato dalla Igea Virtus, seguito da Rocca di Coprileone. Quest'ultima squadra è chiamata ad una trasferta molto ardua, ovvero fare visita al Rosolini di Orazio Trombatore, squadra Cigna e Tenace, specie tra le mura amiche dello stadio Consales. Scendendo in promozione girone C, il match clou è rappresentato dal derby a retuseo Real Avola-Belvedere, scontro diretto nella lotta per il secondo posto, dietro alla lepre Biancavilla. Una sfida molto sentita da entrambe le tifoserie, sia per la rivalità provinciale di Campanile, sia perché fra le due squadre esiste già una bagarre tecnico-agonistica. Il Pachino, dal canto suo, ospiterà al campo Sassà Brancati il Real Paternò dell'esperto tecnico Angelo Busetta. In prima categoria girone G, invece il big match è costituito dal Floridia, che sarà ricevuto dal capolista Sporting Eubea. Per i floridiani si tratta di una rivincita, mentre attendono il responso fra il Vittoria e il Città di Canicattini. Gare casalinghe del Solarino, che riceve lo Scicli, e della rinascita Netina, che ospita la Primavera a Catese. Nel girone F, importante match per lo Sporting Priolo, che al Giorgio di Bari incontra il Militello, mentre trasferte insidiose per il Megara Augusta a Gravina e per il Carlentini a Caltagirone.